Siamo qui con Monsignor Eccellenza Paolo Pezzi, Vescovo di Mosca, due domande, come si svolge un po' la sua giornata qui a Mosca? La mia giornata a Mosca quando sono a Mosca, perché in realtà molte delle mie giornate io le passo in giro per la Diocesi che è estremamente vasta, potremmo dire orientativamente come se fosse alcune diverse volte l'Italia. Una giornata tipica quando sono a Mosca mi alzo intorno alle 7 ho un momento di preghiera mio personale, dopodiché celebro la messa e dopo colazione dedico una prima parte della mattinata a scrivere, preparare interventi, omelie, incontri che devo fare. Nella seconda parte della mattinata e nel pomeriggio lo dedico a incontrare le persone o a incontri pastorali che svolgiamo centralmente a Mosca. Tutto sono 13 anni che mi trovo in Russia, ho fatto un primo periodo come sacerdote in Siberia, attorno alla metà degli anni 90. Poi dopo un periodo a Roma sono tornato in Russia chiamato dal mio predecessore, Monsignor Kondusevich, per svolgere compiti pastorali qui a Mosca inizialmente, ho poi insegnato al seminario diocesano, interdiocesano in realtà che è l'unico per tutta la Russia che si trova a San Pietroburgo e sono stato rettore del seminario a San Pietroburgo. Poi dal 2007, ottobre 2007, quando il Papa mi ha nominato vescovo qui a Mosca per la Chiesa Cattolica di rito latino, mi sono definitivamente trasferito a Mosca. Mosca è una città, è una metropoli e un po' come tutte le metropoli, penso nel mondo, anche se non ho una grandissima conoscenza delle altre, ma penso che un po' forse soffre di un problema di una certa, diciamo così, snaturalizzazione delle persone, cioè il problema forse più grande di una metropoli è di poter essere, di poter vivere pienamente la propria umanità. In questo senso anche Mosca ha le sue difficoltà che a mio parere cerca di affrontare, di risolvere in un modo relativamente buono, è una città in cui si può tutto sommato vivere, anche se ripeto avendo oltre 10 milioni, se non sbaglio dovrebbero essere ormai 13-14 milioni di abitanti, più coloro che vengono solo per lavorare, presenta una sua caoticità. Io non saprei dare una caratteristica diciamo così del Moscovita, certamente è un ambiente russo e questo lo si percepisce, ma ha già una sua anche internazionalità e questa la si, a mio parere, anche già la si nota nella popolazione, nella diversità delle lingue. Noi nella Chiesa Cattolica questo lo notiamo anche in modo particolare, perché diverse nostre comunità nella città di Mosca sono di origine non russa. Adesso le volevo fare una domanda, visto che lei è romagnolo, i romagnoli sono persone credo abbastanza aperte, disponibili, qual è la somiglianza che lei ha trovato eventualmente nella cittadinanza di Mosca, nei cittadini di Mosca. Direi che ciò che forse ci rende più simili è una certa vivacità e passionalità nell'affrontare la vita. Io ho trovato una città, devo dire interessante, non pensavo, me l'avranno descritta peggio, invece ho trovato una città interessante e con persone ricche anche di culture e di conoscenza. L'unica cosa che mi hanno un po' detto in molti è questo spaccato che sta succedendo fra il ricco e il povero. A differenza forse anche di altre capitali del mondo, una cosa che io negli anni passati invece ho notato è che la ricchezza di alcuni ha un effetto a cascata di un certo benessere allargato anche per altri strati della popolazione. Quindi questa è più un'impressione, forse, che non ha una conoscenza chiara di questa situazione. La Chiesa cattolica qui da un punto di vista pastorale non ha tra i suoi fedeli uno strato particolarmente benestante. In genere è uno strato sociale medio e povero. C'è un relativo aiuto reciproco nelle comunità e questo avviene anche a Mosca. Soprattutto c'è anche una costante iniziativa volta ad aiutare le persone più povere che soprattutto alcune suore e alcuni volontari svolgono. Questo anche in accordo con altre strutture locali. In Italia sì, vado ogni tanto, passo anche a trovare i miei genitori che sono ancora vivi e vivono a Rossi. Ho anche un fratello e una sorella che vivono a Rossi. Vado effettivamente molto raramente, normalmente non più di una, a volte diciamo così legato a necessità di lavoro perché vado a Roma per per incontri, allora ne approfitto segno la possibilità di fare anche una scappata, come si suol dire, a Rossi dai miei. L'augurio che mi sento e desidero fare ai miei conterranei è l'augurio anche che vorrò fare ai miei nuovi ormai da diversi anni conterranei qui in Russia. Ed è cioè quest'anno in modo particolare che la venuta di Cristo, il Natale di Gesù Cristo, possa essere un'occasione di speranza proprio per la propria vita, che possa essere un'occasione di sperimentare che anche nelle difficoltà quotidiane, a volte anche molto gravi dovute alla situazione economica, dovute alle sofferenze che a volte attraverso le quali siamo chiamati, a volte a passare, possa risplendere la possibilità dell'incontro con Cristo e perciò di una speranza nell'affrontare questa vita. Ecco, questo è il mio augurio.